Completati due nuovi tratti della ciclopista del Brent, al progetto del valore complessivo di 400.000 euro finanziato dalla provincia, permetterà di collegare i comuni di Campolongo, Solagna, Pove del Grappa con Bassano, arrivando fino alle vicinanze con il Ponte Vecchio, a riconferma di una cittadina, Bassano, a vocazione turistica ma con un occhio attento alle due ruote. L'inaugurazione di questa pista ciclabile riguarda un argomento per il quale Bassano nel 2020 sarà protagonista, avremo la partenza di una tappa importante del Giro d'Italia e ospiteremo anche i campionati nazionali di ciclismo. Il tratto in questione in sinistra Brenta rappresenta il naturale prolungamento verso sud della parte già realizzata fino a Pove del Grappa per passare accanto all'istituto Agrario Parolini, quartiere Marnian fino a Caerizzo, mentre l'altro tratto in destra Brenta parte ai confini con Campolongo per proseguire fino all'abitato di Campese. La pista ciclabile è una pista che si aspetta da qualche anno, è stata progettata nel 2018, l'abbiamo messa in cantierizzata a giugno del 2019 ed è terminata praticamente oggi, oggi è la data di fine lavori, è data in inaugurazione.